ha visto come mi sta guardando? eh ho visto, ho visto spero che almeno ti sia confessato eh? eh sì la puttana di tu ma t'ammazzo io Margherito, le fasce, le fasce dai che son forte te le do io le fasce te a fine partita esci di qui scusi, c'è stato un equivoco con la sua signora dottor Bellay ma dai eh venisi, venimi sotto dai, dai ci devi tanto è schifido da puttate nel marmo non lo piede le due squadre sono sullo 0 a 0 la marchigiana ha opposto una strenua resistenza schierandosi tutta in difesa e lasciando in attacco il solo Margheritoni che praticamente non ha toccato palla partita come vedete piuttosto brutta d'altra parte la Fiorentina ha dalla sua la scusante di essere molto rimaneggiata sul rinvio lunghissimo del portiere si sviluppa finalmente la prima azione offensiva della marchigiana almeno una palla, la prego primo calcio d'angolo in favore della marchigiana contro i 22 che ha già battuto la Fiorentina ma non potremmo parlare dopo siamo franzenti in uomini sia presta a calciarlo che con il non si preoccupi, non tocco palla è stato un colpo di balle vai via, vai via per l'amor di dio che con Sederos ha fatto gol all'ultimo minuto e dopo avere subito per tutta la partita la supremazia della Fiorentina la marchigiana è passata in vantaggio con un gol di Margheritoni che ha segnato con una parte molto indicativa del suo corpo ecco l'arbitro dà il segnale di chiusura